Grazie a tutti. Stasera abbiamo con noi il professore Ettore Fiorini, che è professore di fisica nucleare all'Università di Milano, associato dell'INFN e responsabile di un esperimento che si chiama Cuore, che studia i neutrini, scusate sono un po' raffreddato, ai laboratori nazionali del Gran Sasso. Ed è proprio dei neutrini, queste particelle misteriose e inafferrabili che il professor Fiorini vi parlerà stasera. Vi ricordo appunto che il ciclo riprende e continua giovedì prossimo con il professor Andrea Vacchi, che ci parlerà di un'altra parte conosciuta ma ancora misteriosa del nostro universo, che è l'antimateria. Buon ascolto e buona visione a tutti. Grazie. 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 La prima parte, brevissima, riguarderà il legame che esiste attualmente tra fisica e astrofisica. Quando io, qualche centinaio di anni fa, ero studente, c'era un corso di astronomia. Io facevo fisica, ma mi ero iscritto al corso di astronomia. Ed eravamo in due, io e una ragazza, e la gente maligna diceva che mi piaceva la ragazza. Però dopo un po' di tempo, nonostante la ragazza, ho smesso, perché era una cosa troppo noiosa. Quando ero arrivato all'ultimo anno, al quart'anno di fisica, è venuta a Milano, per un breve tempo purtroppo, una giovane, allora giovane, professoressa americana, che veniva dagli Stati Uniti e che tutti, penso voi conosciate, Margherita Hack. E faceva un corso libero, come è noto, in campo universitario. Il corso libero non serve a nulla, non fa parte dell'attività accademica, al contrario dei complementari. Comunque mi sono iscritto a quel corso, che era fatto però già da una decina di persone. E questo è un grande merito di Margherita Hack, è certamente una delle persone che ha fondato l'astrofisica in Italia. E tante volte, scherzando con Margherita, che è anche un'amica, dico che io sono stato il suo primo allievo. In qualche modo è vero che sono stato il suo primo allievo. Quindi parlerò poi della scoperta del neutrino, come è stato proposto, i vari tipi di neutrino, che fanno parte oggi del panorama dei neutrini, le oscillazioni suggerite dal grande fisico italiano di nascita, ma russo di nazionalità Bruno Pontecorvo. Il problema su cui stiamo tutti combattendo, io stesso, se il neutrino ha una massa o no. E poi l'ultimo punto, che chiamo il secondo mistero di Ettore Majorana, perché oggi abbiamo un nuovo mistero, che è quello proprio di Ettore Majorana. Parliamo qualcosa, brevissimamente, di astrofisica. Mi chiedo scusa, perché dirò cose che alcuni di loro già sono note, poi benissimo illustrate in questa mostra. Allora, l'origine dell'universo, ormai è quasi universalmente noto. Perfino la mia nipotina di otto anni gliela ha spiegato al suo maestro. Il maestro, il nome si chiama Luigi. E l'origine dell'universo è il Big Bang, cioè un primo istante c'era un corpo di altissima densità e altissima temperatura, il quale ha incominciato la sua espansione. Naturalmente, come tutti i corpi in espansione, si è raffreddato e si è portato ai nostri tempi. Durante questo periodo di raffreddamento sono successi alcuni fatti, di cui uno è che si è formata una radiazione elettromagnetica di fondo. Dopo 300 mila anni circa, oggi molto ben misurati, dall'inizio del Big Bang, si è staccata la radiazione dalla materia. Cioè, i fotoni, che sono la radiazione, si sono staccati dalla materia e la materia ha incominciato a viaggiare per i fatti suoi. E questo periodo importantissimo si è anche formato, si vede già oggi quel che succede, perché si può esaminare questo fondo elettromagnetico che si è formato questi 300 anni. Presto, diciamo pure presto, perché quando parliamo del Big Bang ci riferiamo a 15,6 miliardi di anni fa. Quindi, poco dopo, è straordinario, e vedremo che c'è un grosso contributo anche da parte di questa Università di Roma, allo studio di questo fondo elettromagnetico di fondo. Possiamo sapere quel che è successo allora, veramente poco dopo l'inizio del Big Bang. E questo è straordinario. Non ne parlerò molto, perché non è strettamente connesso con l'argomento che devo illustrare. Dirò invece che poi, che è avvenuta questa espansione, a un certo momento la radiazione si è staccata e poi si sono incominciati a formare dei corpi celesti a seconda della massa. Per esempio, si era formata una grossa quantità di idrogeno contenente dell'elio. Questa ha incominciato a comprimersi. Può sembrarci strano, perché noi pensiamo dell'idrogeno, pensiamo che l'idrogeno si espanda. Ma è vero, perché la quantità di idrogeno che noi dispotiamo è piccolissima. Ma se la quantità di idrogeno è enorme, allora l'idrogeno si comprime, perché le forze di gravità superano l'agitazione degli atomi di idrogeno. E lo stesso avviene per l'elio. E quindi questa enorme massa si comprime, si comprime, si comprime, e il destino di questa enorme massa dipende dalla sua massa, naturalmente. Quindi, se la massa è molto inferiore alla massa del Sole, il Sole è un chiaro riferimento, se la massa è molto inferiore alla massa del Sole, sostanzialmente non si forma reazioni di tipo nucleare. Se invece il Sole ha una massa che è maggiore, o dell'ordine della massa del Sole, allora la compressione fa sì. Come sempre quando si comprime un pallone da calcio, si scalda, o la ruota è di una bicicletta. Ecco, anche in questo caso il centro di questo corpo, in contrazione, si porta ad altissime temperature. Nel caso del Sole, per esempio, a 15 milioni di gradi. A queste altissime temperature avviene un processo che è stato già ipotizzato da Hubble, ma poi introdotto e spiegato molto bene, poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, cioè il problema della fusione, cioè all'interno di questo corpo, vedremo meglio nel caso del Sole, avviene che l'idrogeno e poi anche l'elio si riuniscono fra di loro formando nuclei, per cui la grande quantità di processi che avviene produce un grandissimo numero di neutrini, di cui peraltro non abbiamo ancora parlato. Cosa succede poi se la massa è molto maggiore della massa del Sole? Un fatto straordinario è successo e l'abbiamo potuto osservare, almeno quelli meno giovani, io l'ho avuto, sono stato molto colpito, ma tutti i fisici della mia età, nel 1986, perché c'è stata una supernova. Se la massa è molto maggiore, il processo è molto più drammatico, naturalmente. Come ho fatto vedere in questo schema, all'esterno c'è idrogeno, poi all'interno si forma elio, poi carbonio, poi ossigeno e poi all'interno una densità altissima, una densità uguale alla densità del nucleo. E allora abbiamo questa compressione che però dopo espande, si produce un'enorme quantità di energia, la quale naturalmente anche si vede. Si vede, basta pensare che il primo caso, quasi certo, è quello della nebulosa del Granchio, osservata da degli astronomi cinesi poco dopo il 1000, e poi se ne sono viste pochi di questi processi di supernova. E in caso della supernova gioca tantissimo il neutrino. La grande quantità, la grande maggioranza dell'energia liberata dalla supernova, che pure è tanta perché noi la vediamo bene, è dovuta a neutrini che invece non vediamo. Allora parliamo adesso un pochino del nostro protagonista, il neutrino, e qui vediamo alcuni passaggi importanti che riguardano il neutrino, anche prima della sua scoperta. E precisamente vediamo quello che è successo nel 1896. Si dovrebbe studiare nei nostri libri di storia questo fatto. Nel 1896 c'era un fisico, il fisico Becquerel, il quale studiava la radioattività. Non aveva ancora capito che c'era la radioattività. Quello che si sapeva era che c'erano certi raggi, che erano i raggi X. Questi raggi X erano chiamati X proprio perché non si sapeva che cos'erano, scoperti poco prima. Allora lui voleva vedere che tipo di radiazione era questa. Di radioattività non si sapeva ancora nulla. E allora aveva preso dei vari corpi, li esponeva al sole, perché voleva studiare la fosforescenza, vedere se questa radioattività, la continuo a chiamare radioattività sbagliando, se questa radiazione era dovuta a fosforescenza. Quindi prendeva questi oggetti, li esponeva al sole, e poi li petteva a contatto con una lastra fotografica. In un pomeriggio, domenica, quindi si vede che lavorava, una domenica pomeriggio era successo che da molto tempo non c'era sole, quindi non aveva potuto esporre del materiale che aveva messo in un cassetto. E l'aveva lasciato in questo cassetto e col disordine tipico di noi fisici ci aveva lasciato dentro anche delle lastre fotografiche. Quando poi continuava a piovere, la domenica pomeriggio lui ha detto devo buttarle via queste lastre fotografiche, perché sono scadute, le faceva lui. Allora cosa ha fatto? Ha preso queste lastre fotografiche e ha detto invece di buttarle via le sviluppo. E allora sviluppandole ha visto che le lastre fotografiche erano state impressionate, erano risultate impressionate. Pare addirittura, non so se questa sia leggenda o no, che siccome nel disordine del cassetto c'era anche una chiave, era rimasta la traccia della chiave su una di queste lastre fotografiche. Questa non poteva venire da fosforescenza, non erano state esposte al sole. E quindi si è parlato di una radiazione che prima è stata chiamata raggi Becquerel, dal nome di Becquerel. Poi dopo però è successo una serie di scoperte ben note che un'allieva di Becquerel e suo marito, Maria Stobosca Curie e Pierre Curie, hanno studiato e sono messi a studiare accuratamente questo processo che veniva chiamato radioattività. E hanno scoperto così due nuovi elementi. Uno è stato chiamato radio perché emetteva radiazioni e uno in onore della patria di Maria Stobosca Curie era stato chiamato Polonio. Come voi sapete, penso tutti lo sappiano, lei era polacca, era venuta a Parigi per poter fare degli studi in questo campo. Beh, poi dopo adesso arriviamo a qualcosa che ci riguarda più direttamente. E precisamente si è così scoperta la radioattività. La radioattività è un processo spontaneo. Ogni corpo radioattivo emette radiazione, emette tre tipi di particelle, emette le particelle alfa che sono nuclei di elio, emette elettroni, raggi beta che sono elettroni, emette radiazioni gamma che sono onde elettromagnetiche. Questo si sapeva e si è cominciato a studiare questi corpi radioattivi. Curiosamente all'inizio si studiavano in modo calorimetrico, cioè si metteva una sostanza radioattiva, la sostanza radioattiva emette calore e può anche scottare, se emette particelle alfa può anche scottare. Quindi è stato fatto un esperimento da Ellis e Wuster, i quali hanno preso una sostanza radioattiva, era il bismuto 210, e hanno misurato il calore emesso da questa sostanza radioattiva. Questa sostanza radioattiva era emettitore beta, cioè emetteva elettroni. Quindi hanno messo dentro in un calorimetro, che misurava il calore, proprio il vero calore, e hanno visto che ce n'era molto meno di quello che ci si aspettava. Cioè che di calore ce n'era qualcosa come fra metà e un terzo di quello che ci aspettava. Quindi vuol dire che o non si conservava l'energia, e come voi potete immaginare per noi fisici, l'idea che non si conserva l'energia è come darci un pugno nello stomaco, oppure bisognava dire che qualcuno aveva rubato questa energia. E' lì che è incominciato il discorso, anche se l'esperienza di Alice Wuster, fondamentale, è meno nota di altre considerazioni. Nel 1930, farò vedere la lettera, Wolfgang Pauli, grande fisico del Politecnico di Zurigo, doveva partecipare a una conferenza che si doveva tenere a Tübingen. E questa conferenza, lui non ci poteva andare, farò vedere alla fine della mia relazione il perché non c'è andato. Non è una ragione molto nobile. Comunque non è andato a questa conferenza Tübingen. E ha scritto una famosa lettera, il 4 dicembre del 1930, dal titolo che iniziava con Libere Radioattive Dame Nunderre, Signori e Signore Radioattive. Perché noi siamo radioattivi, il nostro corpo contiene radioattività. Una delle storie è che la radioattività fa male. Sì, ce n'è tanta, ma la radioattività naturale esiste in natura. Il nostro corpo è radioattivo. E non credo che noi moriamo anche se siamo radioattivi. Se poi dopo c'è un accumulo di radioattività, allora il discorso è diverso. Ma la radioattività esiste in natura. Ogni corpo è radioattivo. Anche questi signori che erano a questo congresso di fisica nucleare a Tübingen. E poi, dopo questa lettera, lui ha già suggerito l'esistenza di una nuova particella che lui ha chiamato neutrone. Il neutrone non è quello, ma non era stato ancora scoperto. E lui, non sapendo come chiamarlo, l'ha chiamato neutrone. Poi ha fatto una conferenza in Italia, subito dopo. Questa conferenza è stata seguita da Enrico Fermi. Enrico Fermi ha battezzato questa nuova particella che sfuggiva, questo ladro. Questo ladro che portava via energia, che quindi non si vedeva, perché un ladro, se è un bravo ladro, non si fa scoprire. E l'ha chiamata, lui, neutrino, nome che esiste in tutto il mondo. Ormai si chiama neutrino, scritto in giapponese, in cinese, anche se qualcuno, intanto lo chiamano neutrino. E secondo luogo, molti non sanno che è un nome italiano. Ma ha colpito molto che, per esempio, in Giappone nessuno sapeva che il nome neutrino era un nome italiano. Per oggetto piccolo, l'aveva chiamato Fermi. Devo dire, però, che questo fa parte di una fondamentale lavoro di Enrico Fermi, che è la gloria di Enrico Fermi e anche di altri fisici italiani. E cioè, lui ha fatto una teoria dello studio del decadimento beta, la teoria delle interazioni deboli, che da sola meritava il premio Nobel, anche se Fermi l'ha avuto, come penso voi sappiate, per la fissione nucleare. Fermi ne meritava più di uno premio Nobel. Questa teoria delle interazioni deboli si è chiamata per anni la teoria di Fermi. Mi fa piacere, visto che siamo in Roma, che adesso quasi tutti, compreso me, la chiamiamo teoria di Cabibbo delle interazioni deboli, perché è stata sviluppata, con delle idee molto originali, dal fisico ed amico Nicola Cabibbo dell'Università di Roma, e che è veramente uno dei capisaldi della fisica italiana delle interazioni deboli. Però, questa particella, come dico, mancava l'energia, vedremo la lettera di Paoli, e mancando energia, vuol dire che qualcosa usciva, o non si conservava l'energia, o qualcuno la portava via l'energia. Tanta, più di metà, sostanzialmente. Quindi, si è detto che esisteva questa particella che era neutra, che quindi non si poteva vedere, che aveva certe caratteristiche, questo neutrino, però, lo stesso Paoli dubitava che questa particella esistesse, e moltissimi dubitavano. Infatti, è stato molto tempo dopo, nel 1956, che due grandi fisici, Cowan, morto poco dopo, e Reines, che solo pochi anni fa ha avuto il premio Nobel, ingiustamente, l'avrebbe dovuto avere molto prima, hanno osservato per la prima volta i neutrini a Savannah River. Aveva un contatto stretto con Fermi, perché Fermi aveva detto, ci occorre fissioni, processi di fissione nucleare, quindi bisognerebbe usare o delle bombe atomiche, la bomba atomica purtroppo esisteva già, e quindi la bomba atomica deve produrre dei neutrini, questo è stato abbandonato per ovvie ragioni, allora si è detto, usiamo reattori nucleari. I reattori nucleari a quel tempo erano solo militari, per cui, è curioso il fatto, che Reines, nel suo lavoro, Cow e Reines, nel loro lavoro, non potevano dire la potenza del reattore, ma dicevano però i neutrini che si erano visti, per cui io stesso, che ero studente, ho guardato, e siccome sapevo presso a poco qual era la sezione d'urto di interazione dei neutrini, riuscivo a valutarla qual era la potenza del reattore, perché sapendo quanti neutrini venivano emessi e che probabilità c'era di emettere i neutrini, qual era la probabilità che interagissero, e sapendo, farò vedere l'esperimento, come era fatto l'esperimento di Cow e Reines, era possibile vedere abbastanza facilmente quant'era la potenza del reattore. Bene, questa è la lettera famosa Libere radioattive dame non terren scritta da Wolfgang Pauli di cui vedete qui la figura e ho provato a tradurla in italiano modestamente, vi prego di scusare. Ecco, questa è la traduzione della prima parte, l'ultima parte la farò vedere dopo perché è quella che dice come mai lui non è andato alla conferenza di Tubingen, fonte di molti pettegolezzi. Allora, lui parla dell'esistenza di particelle neutre di spino, un mezzo, dice che questo suo rimedio potrebbe sembrare inverosibile, dicevano tutti che era matto, però dice solo chi osa vince, cioè dobbiamo assumere delle cose completamente inaspettate, altrimenti non potremmo chiaparlo, prenderlo questo fenomeno. Però, quello che ha veramente spiegato tutto questo senso è stato Enrico Fermi che qui vedete, perché lui, come vedete allora, la pubblicazione italiana era nota, vi faccio presente il primo lavoro di Fermi sulla ricerca scientifica, tentativo di una teoria di emissione dei raggi beta dovuta a Enrico Fermi in italiano, tradotta naturalmente subito in tutte le lingue. Come vedremo è quel che è successo a Majorana successivamente. Ecco, questo è l'esperimento di Raines e Cowan, vedete, è un esperimento molto semplice, fatto con una strumentazione molto piccola, lì ho fatto vedere, ho avuto l'onore di essere, mi ha onorato della sua amicizia negli anni successivi, Raines, purtroppo, devo dire, che quando ha avuto il premio Nobel, abbastanza recentemente, era malato da Alzheimer, quindi non ha potuto neanche apprezzare bene questo che era stato veramente lo scopo, uno degli scopi della sua vita. Questa è Raines e Cowan che lavorano e permettetemi di far vedere, siccome ho avuto l'occasione di visitare il laboratorio, io stesso, con molto meno anni e molto più capelli, che vedevo, che ho visitato questo esperimento di Raines e questo è Fred Raines e questa è una sua dottoranda a Savannah River, un reattore militare. Non vi dico le difficoltà per entrare in sto reattore che ho avuto io, solo l'appoggio forte di Raines mi ha fatto avere i permessi perché altrimenti sarebbe stato impossibile. Ecco, parliamo adesso del neutrino oggi. Allora, oggi noi sappiamo che non c'è un solo neutrino, quello connesso col decadimento beta di Fermi, ma che ci sono tre tipi di neutrino e che a ognuno di questi neutrini corrisponde un antineutrino, a ogni particella corrisponde un antiparticella. Per esempio, l'elettrone negativo corrisponde all'elettrone un positrone, cioè un elettrone positivo che ha la stessa massa, ha le stesse proprietà a vita infinita come l'elettrone, ma ha carica opposta. Questo è stato scoperto da Blackett e Occhialini. Giuseppe Occhialini, il mio professore negli ultimi anni della sua attività a Milano, era scopritore di questo. Vi cito il fatto che Blackett ha avuto il premio Nobel e Occhialini che aveva costruito la macchina, l'osservatore, la camera di Wilson che potete vedere anche qui fuori e non l'ha avuto. E così è stato visto che esisteva oltre all'elettrone negativo anche l'elettrone positivo. Quindi l'antineutrino, dovrebbe esistere un antineutrino che è l'antiparticella del neutrino, sia elettronico sia muonico. L'elettronico è quello del decadimento beta, il muonico è quello che è associato a un'altra particella che si chiama il muone. Allora, i problemi qui sono parecchi. Intanto, il neutrino non si fa acchiappare, interagisce pochissimo. Vedremo che i neutrini dal centro del Sole hanno una debolissima probabilità di essere assorbito dall'enorme massa del Sole. Ma però vorremmo sapere se questo neutrino ha massa o no. Questo è il problema base oggi della fisica, non solo della fisica del neutrino, ma della fisica delle particelle e della fisica nucleare. Questo ha grandissima importanza in astrofisica perché i neutrini, in tutti e tre i neutrini, sono stati emessi il primo secondo dopo il Big Bang, approssimativamente, cioè prestissimo. E siccome interagivano poco, questi neutrini sono volati via. Si sono stati prodotti dopo circa un secondo e sono volati via tranquilli. E oggi ci sono ancora, naturalmente, perché noi viviamo, nuotiamo in un fondo di neutrini, che però non siamo in grado di vedere perché interagiscono pochissimo. quindi questo è importantissimo in astrofisica, in relazione al Big Bang, c'è anche il problema della materia oscura. Noi sappiamo oggi che la materia che noi conosciamo, cioè i nostri astri, le stelle, tutte le stelle, anche i buchi neri, tutto, costituiscono una minima parte della materia che esiste all'universo. Esiste una materia che è la materia oscura, che noi non riusciamo a vedere, e qui c'è qualche indicazione che esista ma che ancora non è provata. Anche questo è un argomento molto importante. Come possiamo vedere la massa del neutrino? Beh, per esempio, prendiamo il trizio. Questo è un nucleo, trizio, che decade in elio 3 più un elettrone e oggi sappiamo che decade anche in un antineutrino. Vi faccio notare che questo è un antineutrino perché si produce un elettrone che è una particella. Quindi assieme alla particella va prodotta un'antiparticella. Oppure c'è un altro esperimento che pure si sta cercando di fare che è il decadimento del Regno 187. Su questo sarò più breve. L'esperimento più grande, l'esperimento anche molto più costoso, è l'esperimento, dopo una serie di esperimenti, un nuovo esperimento sul decadimento del trizio che si chiama Katrin che si sta preparando presso il laboratorio di Cachrue in Germania. Questo esperimento è... Chiedo scusa. Ecco. Scusate ancora, volevo... Ecco. Quindi viviamo adesso in questa situazione. Abbiamo i neutrini, abbiamo quattro tipi di neutrino, tre tipi, scusate, di neutrino e vorremmo sapere qualcosa della loro massa. Qui c'è stato una fondamentale idea di Bruno Pontecorvo. Bruno Pontecorvo, come voi sapete, era il più giovane, il cucciolo lo chiamavano, era il più giovane del gruppo di Fermi e poi per una serie di fazzende molto romantiche che conosco perché la madre di Pontecorvo abitava a Milano, quindi ho avuto di conoscere molto bene Bruno. e c'è stata tutta una questione, se c'è qualche domanda posso rispondere perché è una cosa in cui ho qualche preparazione perché conoscevo molto bene Bruno e anche un mio allievo era suo cugino, suo nipote, suo secondo cugino. Ecco, Bruno Pontecorvo ha suggerito una cosa straordinaria, ha suggerito che i neutrini provenienti dal Sole durante il lungo viaggio all'interno del Sole nella lunga strada che facevano dal Sole verso la Terra si trasformavano, oscillavano, si trasformavano da neutrini elettronici in neutrini muonici e neutrini tauonici. Ricordo un paragone di Nicola Cabibbo quando cercava di spiegarlo ai suoi studenti, sarebbe, dice, come se ci fosse un grandissimo numero di gatti e a un certo momento uno di questi gatti diventa topo e poi un altro diventa topo, un altro diventa topo e alla fine troviamo che ci sono metà gatti e metà topi. Ecco, oppure partiamo da un gruppo fatto solo da topi, perché è inversa la cosa, parte questo gran numero di topi, a un certo momento uno diventa gatto, l'altro diventa gatto, alla fine metà diventa gatto, in realtà sono tre, io posso parlare solo di gatti e topi, potremmo dire gatti, topi e cani, ecco, allora arriva la terzo che cane e un terzo che topo. Bene, adesso però lo vedremo meglio, perché per questo bisognerà studiare i neutrini prodotti sulla Terra e prodotti in cielo, in astrofisica, e quindi reattori, i neutrini possono venire da reattori nucleari, perché i reattori nucleari nell'interno del reattore abbiamo, i primi sono stati quelli che sono stati scoperti, all'interno del reattore abbiamo neutrini i quali vengono prodotti in gran numero, un reattore ne produce 10 alla 20 al secondo, un numero enorme, oppure da acceleratori di particelle, però possono venire anche dal sole, che è una sorgente enorme di neutrini, possono venire dalle interazioni dei raggi cosmici, noi siamo bombardati in continuazione da raggi cosmici di alta energia, per dare un'idea se io metto questa mano ne ho circa uno al minuto, non ci fa nulla, perché anche questa è una radioattività ambientale che non ci va male, però questo si dà un'idea che non sono pochi, qui bisogna andare sotto terra per non averli questi neutrini, poi abbiamo neutrini dal sole, da interazioni di raggi cosmici e anche dalle galassie che vengono dalle galassie, cioè neutrini di altissima energia che vengono dalle galassie che si studiano, ne accenno brevemente, con esperimenti sottomarini di cui uno anche vicino a Catania, esperimento Nemo 2, c'è anche un'illustrazione qui fuori, questi neutrini sono neutrini di altissima energia che provengono dalla nostra e sicuramente anche da altre galassie. Ho questa fotografia di Bruno Pontecorvo che ha inventato questa idea delle oscillazioni del neutrino, sono state scoperte, le oscillazioni del neutrino sono state scoperte sperimentalmente poco dopo la morte di Bruno Pontecorvo, altrimenti avrebbe avuto sicuramente il premio Nobel perché l'aveva suggerite prima, ma voi sapete il premio Nobel si può dare solo a persone viventi, non si può dare a persone morte. Ecco, questo fa un'idea, dà un'idea, questo l'ho preso da una trasparenza di un collega russo, vedete di fatti che qui c'è la fotografia di Bruno Pontecorvo con Bruno Pontecorvo, Bruno Maximovic Pontecorvo in russo, e lui nel 57 aveva dato questo suggerimento e voglio farvi vedere appunto che i neutrini possono venire dal sole, possono venire da reattori nucleari, per ora si sono osservati con reattori in Giappone solo nazioni che hanno una grande quantità di reattori nucleari di potenza e noi volevamo fare un esperimento a corso, ma come voi sapete l'energia nucleare è stata tagliata e in Italia il reattore di corso è stato chiuso e questo esperimento non l'abbiamo potuto fare, ma invece in Giappone c'è un grande insieme di reattori, lo stesso in Francia e anche in America quindi tre esperimenti che sono stati fatti con reattori il più importante è stato fatto in Giappone perché c'è una concentrazione enorme di reattori nella parte inferiore sud del Giappone gli altri sono stati fatti in Francia con una collaborazione anche italiana ma il reattore ovviamente era un gruppo di reattori francesi queste sono le varie sorgenti di reattori sono esperimenti attualmente in funzione cominciamo a parlare del sole il sole anche qui molte cose loro certamente le conoscono il sole è una stella che è molto vicina a noi per questo sappiamo molto del sole perché è la più vicina di gran lunga la più vicina a noi è una stella di massa media è un giovanotto di mezza età cioè è stato si è formato circa 4,5 miliardi di anni fa cioè molto dopo il Big Bang e vivrà almeno altrettanto quindi non dobbiamo preoccuparci e come è stato detto da Bette nel 1936 è stato detto che il sole emetteva un'energia che non poteva essere energia gravitazionale che non poteva essere energia chimica se fosse stata che il sole bruciava avrebbe bruciato in un tempo molto breve mentre invece sappiamo che è una vita molto lunga quindi non può essere quello deve essere un processo di fisica nucleare che avviene nel sole però come si fa a sapere quel che succede all'interno del sole è un bel problema perché nel terno del sole se si formano particelle si fermano subito il sole è enorme l'unica indicazione che abbiamo se queste teorie sono vere è dai neutrini perché i neutrini escono dal sole perché loro interagiscono pochissimo meno di uno su un miliardo viene assorbito dal sole gli altri arrivano sulla terra naturalmente a rivelarli è difficile perché perché come interagisco un po' con il sole interagisco un po' anche da noi allora intanto se noi facciamo un esperimento qui non li vediamo perché abbiamo i raggi cosmici abbiamo un fondo cosmico bisogna mettersi sotto terra per schermarsi dalle altri fonti bisogna che non ci sia sostanze radioattive eliminare sostanze radioattive naturali se in questi esperimenti uno va dentro con un orologio vecchio i vecchi orologi svizzeri quelli fosforescenti quelli sono radioattivi non si poteva entrare con quelli bisognava veramente star molto attenti se si tocca questi esperimenti col nostro dito siccome il nostro sale il nostro sudore contiene potassio 40 che è radioattivo questo può disturbare un esperimento quindi questo dà un'idea delle difficoltà di questi esperimenti che sono attualmente in corso ecco quello che succede all'interno del sole le reazioni nucleari che avvengono all'interno del sole che producono neutrini come vedete questi sono segnati in blu producono dei neutrini e questi neutrini sono stati osservati sono stati osservati prima da un esperimento condotto negli Stati Uniti in una miniera in Dakota e questo è stato un esperimento fatto con una soluzione di cloro poi è stato fatto un esperimento nel laboratorio del Gran Sasso Gallex che per primo è un esperimento europeo praticamente italo-tedesco che ha mostrato per la prima volta i neutrini di bassa energia prima non si erano osservati e attualmente c'è un esperimento in corso sempre nel laboratorio del Gran Sasso che si chiama Borexino che sta ancora osservando comunque ormai i neutrini del sole sono stati osservati da parecchi esperimenti quindi ormai sappiamo che ci sono e il dubbio era questo che sono un terzo di quel che ci si aspetta i calcoli di Bacol che è morto poco fa purtroppo Bacol aveva aveva calcolato i neutrini del sole e ne aveva calcolati tre volte di più di quelli che si sono osservati e non si capiva il perché tanto è vero che Bacol era disperato per sta faccenda invece aveva ragione lui è nata una questione fra fisici e astrofisici non sempre siamo d'accordo perché i fisici dicevano c'è poco da dire noi troviamo un terzo dei neutrini su questo non ci piove vuol dire che voi astrofisici calcolate male il flusso all'interno del sole gli astrofisici hanno detto no 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 impossibile che noi calcoliamo il flusso l'energia all'interno del sole perché il nostro calcolo se vale per il sole vale per tutte le stelle non può essere sbagliato avevano ragione loro perché era vero il numero di neutrini previsti dagli astrofisici e da Bacol era giusto ma però i neutrini nel partire dal sole e arrivare sulla terra oscillavano si trasformavano e i neutrini elettronici non erano più solo per un terzo rimanevano neutrini elettronici e come aveva previsto Ponte Corvo prima di tutte queste questi esperimenti era giusto che oscillavano cioè due terzi dei neutrini del sole che sono neutrini elettronici diventavano neutrini muonici e neutrini tauonici che noi non eravamo in grado di osservare quindi questo è stato un primo grossa importanza vedete che qui Bacol ha avuto pure scusate Davis ha avuto pure il premio Nobel assieme a Masatoshi Koshiba che ha fatto un altro esperimento sui neutrini del sole questo è l'insieme dei neutrini che vengono qui è l'energia dei neutrini qui è il loro flusso e l'importanza dell'esperimento Gallex è stato che ci sono riusciti a vedere questi che come vedete sono quelli di gran lunga più grandi questa scala in scala logaritmica bene ancora faccio vedere qualcuno questo è l'esperimento Gallex questo è l'esperimento di Koshiba l'altro è un esperimento nel Dakota e questo è l'esperimento in Abruzzo il Borexino in Abruzzo che ha avuto come tutti i nostri esperimenti con plus il nostro qualche ritardo purtroppo dovuto al terremoto come potete immaginare ecco ci sono altri neutrini qui sarò più breve ci sono dei neutrini che ci sono i raggi cosmici che interagiscono nell'atmosfera producono neutrini e noi li osserviamo in un laboratorio sotterraneo e cerchiamo quelli che vengono dall'alto e quelli che vengono dal basso e troviamo delle differenze questo è stato fatto anche nel laboratorio del Gran Sasso un esperimento macro che è stato fatto e attualmente si sta tuttora studiando con un altro esperimento LV2 c'è una grande intensità di attività in questo campo nel laboratorio Gran Sasso che questo laboratorio costruito come penso voi sappiate per l'iniziativa di Antonino Zichichi è più grande il laboratorio sotterraneo oggi non solo è più grande ma praticamente tutti gli altri laboratori si potrebbero mettere dentro ci starebbero nel laboratorio del Gran Sasso è l'unico vero grande laboratorio sotterraneo anche se negli Stati Uniti si sta progettando per ora un laboratorio ancora più profondo del Gran Sasso ecco questo è l'esperimento di Super Camio Cande che anche allora aveva visto i neutrini e vediamo adesso un ultimo punto citato molto anche in questa mostra gli esperimenti Long Baseline esperimenti dove si producono artificialmente dei neutrini ma questi neutrini si cercano molto lontano perché per vedere queste oscillazioni è bene andare lontano quanto lontano? beh chilometri diecine di chilometri centinaia di chilometri allora di questi esperimenti c'è un esperimento che è già in funzione dunque un esperimento con reattore Camp Land che ha confermato le oscillazioni con reattori poi c'è l'esperimento K2K che è fatto con acceleratore che butta dei neutrini contro Super Camio Cande che è quel rivelatore che ho detto prima che aveva visto i neutrini dal sole l'esperimento Minos negli Stati Uniti che va dal Fermilab che è il grande centro nucleare degli Stati Uniti verso la miniera del Sudan 730 chilometri e l'esperimento CERN Gran Sasso dove un fascio di neutrini dal CERN a una distanza quasi identica simile a quello del Fermilab viene mandato nel laboratorio del Gran Sasso da non molto tempo uno dei due esperimenti l'esperimento Opera è in funzione e si incominciano a vedere i neutrini provenienti dal CERN l'altro Icarus è già realizzato in parte ma non è ancora in funzione poi c'è un altro esperimento J2K che sta prendendo inizio in Giappone come vedete è un campo molto complesso e con molta attività faccio vedere ecco Minos manda un fascio di neutrini dal Fermilab in un laboratorio sotterraneo K2K è l'esperimento giapponese questo è l'esperimento CERN Gran Sasso e questa è la prima simulazione fatta dall'esperimento Opera questi sono esperimenti futuri con neutrini dal reattore uno ancora in Giappone come voi vedete e l'altro a Daiabei in Cina e poi ci sono esperimenti futuri come il Double Show in Francia e l'esperimento Daiabei in collaborazione con la Cina la Cina sta sviluppandosi molto dal punto di vista della fisica fondamentale e devo citare anche se non connesso strettamente con il neutrino degli esperimenti sott'acqua nel ghiaccio c'è l'esperimento Amanda nel polo e poi ci sono questi esperimenti NEMO è un esperimento fatto dagli NFN vicino a Catania e poi c'è l'esperimento Nestor nel mare vicino alla Grecia e Antares e noi stiamo cercando speriamo che questi esperimenti possano riunirsi in un unico esperimento di un chilometro cubo di acqua non c'è problema nel mare naturalmente adesso parlo un po' della massa del neutrino abbiamo visto che ci sono le oscillazioni le oscillazioni ci dicono che la differenza di massa tra due neutrini deve essere diversa da zero allora se la differenza fra due grandezze è diversa da zero vuol dire che almeno una delle due grandezze deve essere diversa da zero perché zero meno zero fa zero quindi se trovo che qualcosa meno un'altra ma però non sappiamo quant'è la massa questo è il fatto fondamentale della fisica di oggi noi sappiamo che il neutrino ha massa siamo sicuri che il neutrino ha massa questa è la grande prova delle oscillazioni però non sappiamo quant'è questa massa quindi il problema diventa ancora più eccitante in qualche modo uno può cercare dalla cosmologia qui c'è un esperimento molto bello il primo che è stato fatto dal professor Paolo De Bernardis dell'università di Roma e cito questo non perché sono ospite ma perché è un esperimento fondamentale in cui si sono visti per la prima volta il fondo dei cosmici il fondo di radiazione cosmica quella ho detto che si è staccata a 300 mila anni dopo il Big Bang poi è stato fatto un esperimento pensi se Wilson che aveva visto per primo questo poi c'è un esperimento WMAP WW Wilson è morto purtroppo che l'esperimento è talmente in funzione ma ce ne sono anche degli altri quindi queste danno delle indicazioni sulla massa del neutrino perché se c'era il neutrino vuol dire che portava via della massa però per il momento ci dicono solo che la massa del neutrino è molto piccola ma non ci dicono quant'è per darvi un'idea la massa del neutrino si misura in elettronvolt un elettronvolt è circa 500 volte 500 mila volte meno della massa dell'elettrone quindi noi oggi sappiamo che la massa del neutrino è inferiore a 100 mila volte quella dell'elettrone Fermi aveva detto il neutrino deve avere una massa molto piccola inferiore ancora a quella dell'elettrone ma parliamo di 70 anni fa quindi era andato molto avanti lui in questo concetto ecco questo è l'indicazione della massa del neutrino ma ci sono solo limiti noi sappiamo che il neutrino ha massa inferiore parlo adesso di questo grosso esperimento Katrin che si svolge a Calzue da una grossa collaborazione europea e americana sul decadimento del trizio si cerca di vedere quant'è la massa del neutrino da questo decadimento questo esperimento è in costruzione faccio vedere prima questa fotografia perché il corpo in cui si misura la massa del neutrino come potete vedere qui è molto grande e per quanto può sembrarvi strano questo oggetto è costruito in un certo posto e deve andare dove viene fatto l'esperimento che è 100 chilometri di distanza ma non si può trasportare ecco cosa hanno fatto questo è dove viene fatto l'esperimento questo è dove viene fatto il corpo il corpo ha fatto tutto questo giro utilizzando fiumi e mare e ha fatto tutto questo giro per portarlo da una parte all'altra d'altra parte non c'era modo di portare un oggetto così grande e così pesante se non facendo fare questo lungo giro attraverso fiumi come potete vedere e mare e di fatti questa è la ragione di come sono festanti questi qui perché vedete che qui è arrivato la Kaisluwe c'è un altro esperimento lo salto questo è un esperimento e invece arrivo a questo punto a cui vorrei dedicare un po' di tempo perché è una cosa in cui anche sono personalmente coinvolti allora voi sapete tutti sanno la storia di Ettore Majorana e un mio collega un mio illustre collega qualche anno fa mi diceva beh sai Majorana è noto perché ha fatto dei risultati molto importanti di fisica però è noto più che tutto per il mistero della sua morte mistero che come voi sapete sono stati molti libri un libro di Sciascia il caso Majorana altri libri adesso ancora adesso qualcuno dice che è ancora vivo vabbè quello tutto il più ne parleremo dopo se qualcuno vuole saperne qualcosa di più però quello che invece è vero è che nel 1900 come potete vedere da qui nel 1937 in italiano come spesso veniva allora Majorana ha scritto uno dei suoi sette articoli Majorana ha scritto solo articoli in italiano non sapeva molto le lingue sapeva un pochino di tedesco perché era stato con Heisenberg e ha scritto e questo articolo scritto un anno prima della sua scomparsa è oggi uno dei articoli più importanti al mondo il nome di Majorana se voi prendete l'attuale bibliografia scientifica degli ultimi anni degli ultimi cinque anni dieci anni il nome di Majorana è il nome italiano più citato dopo quello di Fermi ci sono un esperimento l'esperimento rivale nostro che si sta preparando negli Stati Uniti si chiama Majorana una particella che si sta cercando si chiama Majorone quindi il nome e questo lavoro è fondamentale tradotto adesso in tutte le lingue che è il lavoro di Ettore Majorana ma cosa ha detto Ettore Majorana lui allora si riferiva all'elettrone e al positrone ho detto prima che dopo la scoperta di Blackett e Occhialini e dopo anche altre scoperte per esempio quella di Powell e Occhialini poi parlerò anche di quello magari lui sapeva dell'elettrone e positrone si aveva già l'idea che ci fosse il neutrino ma non era stato ancora visto quindi non si sapeva ancora che se c'era veramente o no lui però ha detto che c'era un mescolamento cioè il neutrino è neutro l'antineutrino è neutro anche lui ho detto che particella e antiparticella sono identiche ma se sono neutre allora è la stessa particella o no e questo non lo sappiamo oggi è il dubbio nostro il neutrino è uguale o no all'antineutrino questo è il dubbio che è nato con Ettore Majorana nel 1937 pensate quanti anni fa e dopo lui è scomparso quindi beh ecco il dilemma come vedete ci sono due grandissimi fisici Dirac che dice che il neutrino è diverso dall'antineutrino e invece Majorana che diceva che il neutrino è uguale all'antineutrino e questo è il dubbio che oggi abbiamo che ha importanza enorme non solo in fisica ma anche in astrofisica perché se il neutrino è di Majorana come noi speriamo allora vorrebbe dire che questo potrebbe spiegare la simmetria dell'universo in poche parole come voi sapete all'inizio all'universo c'era quark e anti-quark c'erano particelle e antiparticelle alla stessa quantità ma noi siamo fatti da materia non siamo mica fatti da antimateria noi siamo fatti da atomi intorno a cui girano nuclei in cui girano elettroni non positroni come mai noi siamo fatti di materia per spiegare questo sono state varie teorie di cui una dal fisico Andrei Sakharov noto perché ha avuto il premio che era uno di quelli che avevano stato considerati il premio per la pace bene noi oggi questo fatto ci può spiegare anche quello anche la ragione della simmetria quindi è un discorso molto importante per far questo c'è un unico modo ed è guardare un rarissimo decadimento che è il decadimento di un nucleo saltando il nucleo intermedio cioè un nucleo che invece di andare su questo nucleo non può per conservazione dell'energia salta su qui e qui invece di essere emesso solo due elettroni saranno emessi due elettroni e due antineutrini perché se è vero Dirac se è vero che si conserva il numero di neutrini vuol dire che se vengono emessi due elettroni devono essere per forza emessi due antineutrini ma se invece questo non è vero e cioè non si conserva il numero di neutrini allora succede che viene emesso solo due elettroni questo è il decadimento doppio beta questo è stato suggerito da una grandissima fisica che è Maria Geptermeier incidentalmente Maria Geptermeier è una delle due donne uniche due donne contro centinaia di uomini che ha avuto il premio Nobel un terza donna ha avuto il premio Nobel che è Irene Curie figlia di Maria Curie ma ha avuto il premio Nobel per la chimica le donne che hanno avuto il premio Nobel per la fisica sono due Maria Geptermeier e Sklodowska Curie Maria Sklodowska Curie quindi ragazze datevi da fare perché manca un contributo femminile ci sono stati casi di profonda ingiustizia per esempio Lisa Meitner perché era ebrea sostanzialmente perché ha dovuto per questa ragione scappare in Svezia non ha avuto il premio Nobel ha avuto otto anni molto meno meritevole di lei lasciamo andare che non l'ha neanche citata nel discorso Nobel ma lasciamo andare questo bene qui ci sono una serie di contributi su questa cosa la prima è come vedete qui Maria Geptermeier ho fatto vedere prima che qui stava parlando con Fermi era giovanissima aveva mi pare 26-27 anni quindi ancora dico a ragazze datevi da fare e poi non ha avuto il premio Nobel per quello ha avuto il premio Nobel per il modello nucleare però se lo meritava anche per questo poi ci sono stati primo Majorana ho già detto e poi c'è stato un altro italiano Raka che è questo che era italiano era come si vede un po' dal nome ha dovuto scappare dall'Italia perché era ebreo ma ha fatto dei grandissimi contributi poi abbiamo fatto anche qualche lavoro nostro cosa vuol dire? vuol dire che vengono emessi solo due elettroni quindi bisogna cercare questo rarissimo nucleo in cui vengono emessi due elettroni e la somma della massa dei due elettroni deve essere uguale all'energia di transizione cioè questo l'esistenza dei neutrini del decadimento doppio beta senza neutrini implicherebbe come ho detto che il neutrino è una particella di Majorana e che il neutrino ha massa e questo permetterebbe anche di misurare la sua massa però mentre l'emissione il processo con l'emissione torno un momento indietro mentre il processo con l'emissione di due elettroni e due neutrini è stato trovato in dieci nuclei quindi c'è di sicuro ma quello ci aspettiamo che ci deve essere perché il neutrino se anche non si conserva si conserva deve esserci noi invece oggi dobbiamo cercare quello senza neutrini ed è molto più difficile cercarlo questo è il primo esperimento a cui è stato fatto da noi per questo è stato il primo esperimento che è stato fatto allora costava poco è stato fatto quando io ero molto giovane è stato fatto in un laboratorio sotterraneo che era un rifugio allora non c'era ancora i laboratori non c'era il laboratorio del Gran Sasso è stato fatto in un rifugio abbandonato che era stato un rifugio contro i bombardamenti a Torino e l'esperimento è costato mi ricordo sempre 2000 dollari quindi è costato proprio poco ed era un esperimento come vedete molto artigianale poi successivamente poi un successivo esperimento è fatto nel tunnel del Monte Bianco dove la schermatura per i raggi cosmici era molto migliore e poi questo è un insieme di esperimenti che sono stati fatti sul decadimento doppio beta come vedete in tutti i vari posti del mondo e questi esperimenti sono tutti negativi cioè vedete che c'è un senso maggiore cioè questo decadimento avviene con una vita maggiore di maggiore di maggiore di con un'unica eccezione c'è un esperimento fatto da quattro componenti di questa collaborazione diretti dal professor Hans Klapptor che dice invece che questo decadimento c'è ma tutti gli altri esperimenti sono in contrasto quindi per ora non abbiamo alcuna indicazione che esista il decadimento doppio beta senza neutrini quindi ancora non sappiamo se il neutrino è un neutrino di Dirac o è un neutrino di Majorana e non possiamo sapere la sua massa anche se sappiamo però che la massa deve essere diversa da zero questi sono esperimenti in progetto futuri e l'unico esperimento che adesso è stato approvato completamente è l'esperimento cuore questo esperimento cuore di cui parlerò fra un momento ma molto rapidamente questi sono esperimenti in progetto cuore in costruzione un esperimento è l'esperimento Gerda per esempio nel laboratorio del Gran Sasso qui l'altro esperimento è cuore qui c'è stato fatto un piccolo esperimento cuore che è stato chiamato cuoricino cuore vuol dire è un acronimo che vuol dire cryogenic underground observatory for rare events cioè osservatorio sotterraneo criogenico su eventi rari però il fatto che l'acronimo venga il nome cuore mi fa abbastanza piacere io sono lo spokesman di questo esperimento e mi fa piacere che l'acronimo sarà pure un acronimo è il nome italiano non solo ma ne abbiamo fatto uno più piccolo prima per provare e l'abbiamo naturalmente chiamato cuoricino credo che sia ovvio lì non c'entra l'acronimo ecco volevo dire alcuni esperimenti questo è l'esperimento Gerda che si stanno montando presso il laboratorio del Gran Sasso questi sono gli esperimenti termici come cuore in cui si misura il calore sono gli esperimenti in cui si misura il calore generato da un decadimento all'interno di un cristallo questo è l'insieme di aumento di massa di questi rivelatori questo è l'esperimento cuore vedete Cryogenic Underground Observatory for the Revent in costruzione al Gran Sasso dovrebbe essere pronto fra un anno o due però è già stato fatto un piccolo esperimento che si chiama cuoricino faccio vedere qui alcune trasparenze di come si deve lavorare in questi esperimenti con estrema cura per la radioattività ecco ancora un esempio ecco questo è il montaggio di cuoricino che è una delle colonne di cuore e qui vorrei far vedere il fatto che questi cristalli sono fatti in Cina da due grandi centri cinesi e questa è l'operazione che si sta facendo in Cina come vedete non è molto diverso a vedersi perché anche qui si deve lavorare in grande pulizia questo è il mio amico Ioan Daphinei del gruppo di Roma che abbraccia due tecniche di cui una molto carina però qui non si vede per la verità come potete osservare comunque molto carina ecco allora vediamo un po' cosa possiamo dire abbiamo visto qualcosa sulla fisica dell'astrofisica abbiamo visto che le oscillazioni del neutrino hanno una massa indicano la massa diversa da zero il decadimento beta semplice e doppio possono permettere di misurare la massa del neutrino ma molto di più di vedere se il neutrino è di Dirac o di Majorana questa importanza in cosmologia per spiegare l'origine dell'universo a carattere interdisciplinare questo è molto bello per i giovani cioè le persone che lavorano in questo campo non devono lavorare solo alla fisica nucleare devono sapere la geologia devono sapere l'astrofisica devono sapere le basse attività devono sapere la fisica ambientale perché il nostro principale nemico è la radioattività e quindi bisogna cancellare ridurre al minimo la radioattività e poi come promesso dirò la conclusione della lettera di Paoli da cui è nato tutto questo nostro discorso e se qualcuno lo vuole sapere potrò anche dire che ci sono due argomenti in questo lui dice molto bello perché vale ancora d'ora in avanti occorre discutere seriamente tutti i lati del problema quindi cara gente radioattiva esaminate e giudicate sfortunatamente non posso essere di persona tubinghe dato che la mia presenza è indispensabile qui per un ballo che avrà luogo nella notte dal 6 al 7 dicembre il vostro devoto servitore Wolfgang Paoli nel concludere volevo dire avrete notato che ho citato spesso nomi italiani parlando della fisica del neutrino che è pure un nome italiano allora vorrei garantire che se io avessi dovuto fare una conferenza simile fatta all'estero avrei citato gli stessi nomi non ho citato questi nomi italiani per sciovinismo nazionalisti e ne ho citati solo pochi perché potrei citarne molti di più che hanno dato dei contributi enormi alla fisica del neutrino e che lo stanno dando sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista sperimentale per fortuna dobbiamo dire che fin dall'inizio noi fisici che lavoriamo in questo campo abbiamo avuto un enorme vantaggio rispetto agli altri una grandissima scuola di fisica e di fisica del neutrino quindi è indubbio che noi dobbiamo anche esprimere una gratitudine verso questi che ci hanno preceduto cerchiamo di portarci al loro livello ma non è facile e questo voglio dire quindi se ho citato questi nomi italiani è perché la nostra nazione ha contribuito veramente in una maniera straordinaria alla fisica del neutrino grazie prego devo sentire non sento deve aspettare perdono l'ignoranza ma se la massa del neutrino si potrà determinare durante le oscillazioni lì c'è una creazione di massa no il discorso è diverso il neutrino la massa la massa del neutrino è piccolissima questo noi lo sappiamo quindi le oscillazioni il saltare da un neutrino all'altro implica un salto minimo di massa quindi però le oscillazioni ci dicono solo per essere più precisi ci dicono solo che la differenza del quadrato che la differenza del quadrato della massa di uno dei neutrini meno il quadrato della massa di un altro dei due neutrini è diverso da zero ci dice solo questo le faccio un esempio che una domanda che faccio ai miei studenti quando fanno l'esame cioè le dico se i due neutrini per esempio il neutrino elettronico e il neutrino muonico avessero massa avessero massa ma avessero rigorosamente la stessa massa ci sarebbero le oscillazioni la risposta è no perché la soluzione nasce solo dalla differenza di massa quindi l'oscillazione ci permette solo di dare e ce lo dà ci dà solo un'indicazione della differenza dei quadrati della massa del neutrino elettronico e del neutrino muonico o del neutrino elettronico e del neutrino tauonico ma non ci dice quant'è la massa potrebbe essere grande non lo è probabilmente ma perché gli esperimenti mostrano già che è piccola però non la sappiamo ragazzi molto scusi la domanda ovviamente di base c'ho giusto una curiosità ma non so se la condividono gli altri ma come fate a distinguere un neutrino che viene dal sole e da quello dei raggi cosmici scusi grazie no no è giustissima la domanda è tutt'altro dunque i neutrini possono essere di varie energie allora adesso le do un'indicazione di energia perché altrimenti l'energia di una particella si misura in elettron volt che sarebbe l'energia che ha un elettrone accelerato da un volt allora gli neutrini dal sole hanno energie dell'ordine di un miliardo un milione mi scusi un milione di elettron volt i neutrini prodotti da un reattore nucleare hanno energie analoghe energie dell'ordine di milioni mev noi diciamo mev vuol dire un milione di elettron volt i neutrini dovuti all'interazione dei raggi cosmici quelle dovute all'interazione dei raggi cosmici hanno delle energie che sono molto crossolano dell'ordine di un miliardo di elettron volt mentre i neutrini supercosmici quelli provenienti dalle galassie quelli che si studiano in questi esperimenti sotto marini hanno energie molto più grandi ancora cioè di migliaia di miliardi di elettron volt tutti questi neutrini in maniera diversa oscillano questo siamo sicuri che oscillano naturalmente per vedere le oscillazioni è diverso se hanno un'energia come il sole il sole ha un gran vantaggio rispetto a noi che è molto distante quindi fanno modo di oscillare molte volte se noi vogliamo farli con un reattore mettersi vicino a un reattore non è che ci sia problema ma dobbiamo scegliere un posto sottoterra vicino a un reattore perché in superficie siamo coperti dai raggi cosmici normali buonasera professore volevo chiederle tenuto conto delle attuali incognite legate alla natura e alla massa del neutrino se a suo parere è ipotizzabile una qualsiasi una qualche relazione tra questa particella a quanto pare ancora molto misteriosa e la materia oscura o l'energia oscura la sua è una osservazione giustissima cioè il neutrino ha massa questo lo sappiamo e noi viviamo in un mare di neutrini naturalmente viviamo in un mare di neutrini elettronici neutrini muonici neutrini tauonici e corrispondenti antineutrini quindi sei tipi diversi di neutrini questi neutrini sono tantissimi perché altrimenti il discorso non avrebbe senso questi neutrini sono tantissimi se hanno se avessero una massa molto grande contribuirebbero alla materia oscura quindi questi esperimenti come gli esperimenti boomerang di cui ho parlato prima o l'esperimento W danno un'idea della distribuzione del fondo elettromagnetico cosmico non di neutrini del fondo di radiazione e questo viene influenzato dalla massa delle particelle e quindi noi possiamo anche di lì dare un limite sulla massa del neutrino cioè che non è poi molto diverso da quelli che otteniamo sperimentalmente cioè noi diciamo che il neutrino ha oggi oggi come oggi siccome abbiamo parlato di elettron volt noi diciamo che il neutrino gli esperimenti attuali dicono che il neutrino ha massa meno di 2 elettron volt che è pochissimo perché l'elettrone ha 500.000 elettron volt quindi è piccolissima questa massa e quindi questi esperimenti di cosmologia ci dicono che è meno di un elettron volt diciamo grosso modo gli esperimenti del decadimento doppio beta attualmente sono un po' meglio ci dicono che sono meno di mezzo elettron volt però si vorrebbe arrivare a qualcosa come 10 volte meno perché quello potrebbe essere un'indicazione che viene dalle oscillazioni questa è oggi la situazione ma è duro arrivarci è molto duro arrivarci mi scusi professore volevo solo una curiosità siccome ho capito che il neutrino non interagisce con la materia diciamo ordinaria pochissimo pochissimo come riesce a essere studiato nel senso come viene bloccato tra virgolette sotto terra per darle un'idea il primo esperimento grazie il primo esperimento che ha mostrato ho fatto vedere l'illustrazione il primo esperimento che ha fatto che ha mostrato i neutrini dal sole il primo che si è visto i neutrini dal sole o dal reattore quello del reattore il reattore sono andati vicino quindi al reattore si poteva andare vicini cioè il primo esperimento suggerito incidentalmente da Ponte Corvo che in un articolo non pubblicato in una relazione interna Ponte Corpo era scappato in America negli Stati Uniti ma poi è andato a Chock River in Canada e lì ha scritto una nota interna famosissima quella l'ha scritta in inglese una nota interna famosissima su come cercarli questi neutrini e ha fatto un suggerimento di vari nuclei su cui studiarla addirittura dicendo questo no perché costa troppo per darvi un'idea ecco allora la prima proposta la prima scoperta è stata quella con un reattore nucleare perché perché il reattore nucleare ogni fissione ogni fissione che avviene all'interno del reattore produce queste famose scorie dei reattori di cui oggi si parla tantissimo per l'energia nucleare se parla o no ecco ogni fissione produce cinque neutrini circa quindi all'interno del reattore come ci può immaginare c'è un numero enorme di fissioni quindi si produce circa dieci alla venti cioè uno con venti zeri dieci alla venti neutrini al secondo quindi c'è un'intensità enorme di neutrini altrimenti non si potrebbe vedere quindi mettendo un oggetto che sia per esempio dell'ordine di una tonnellata si riesce a vedere qualche interazione di neutrini cioè una volta al giorno per darle un'idea una volta al giorno si vede un processo nucleare che non può essere altro che dovuto a neutrini il sole in qualche modo è peggio l'intensità dei neutrini del sole è enorme però i neutrini del sole che arrivano sulla terra sono circa dieci alla undici cioè cento miliardi quelli che arrivano sulla terra però è difficile trovarli perché interagiscono poco presso a poco interagiscono come quelli del reattore seguendo la domanda che era stata fatta prima quindi lì bisogna mettere una massa molto grande e andare molto sotto terra perché altrimenti è tutto radioattivo qui è tutto radioattivo come dicevo metto la mano e ho uno al minuto uno al secondo nella mia mano di raggi cosmici quindi devo andare sotto terra altrimenti non riesco a vederlo e devo mettere una grossa massa l'esperimento di Davis e quindi devo scegliere anche un materiale che non costi troppo l'esperimento di Davis che è il primo che è stato fatto negli Stati Uniti è stata usata una sostanza che è per cloroetilene che mi pare di ricordare che sia la trielina cioè un detergente che con questo era 600 tonnellate 600 tonnellate e dicevano che con questo solvente con questo detergente si poteva pulire le strade di New York per una settimana ricordo che c'era questa storia che si diceva quindi occorre un'enorme massa altrimenti non può vederle e con questi grossi esperimenti l'esperimento di Davis uno vede un'interazione un solo processo ogni due giorni quindi cercare questo è ben peggio che cercare un ago nel pagliaio e cercare un atomo su 600 tonnellate di materiale sono esperimenti estremamente difficili professore le volevo porgere due domande la prima riguardava i diversi tipi di neutrini se l'elemento distintivo oltre alla massa qual è e poi per quello che riguarda la sezione d'urto se è un parametro ben definito o ancora è da definire in modo preciso grazie la prima domanda è molto giusta tanto è vero che si pensava che ciascuno i tre neutrini neutrino elettronico neutrino muonico e neutrino tauonico sono tutti con massa zero massa vicina a zero scusate la massa non la sappiamo e sono prodotti in processi diversi cioè il neutrino elettronico è prodotto il primo che è stato scoperto e pensato il neutrino elettronico è stato si pensava solo che ci fosse solo il neutrino elettronico Fermi pensava che ci fosse solo il neutrino elettronico ripeto parlo di più di 70 anni fa questo è associato al decadimento beta viene emesso un elettrone e di conseguenza viene emesso un antineutrino elettronico il muone è un'altra particella che è stata scoperta molto dopo è stata scoperta in una serie di esperimenti di cui quello di Paolo e le occhialini di cui ho parlato prima ecco il neutrino il muone è una specie di elettrone pesante che pesa molto di più dell'elettrone che pesa 200 volte di più dell'elettrone allora il decadimento il mu viene prodotto dal decadimento di un'altra particella e viene uscito assieme a questo mu come nel decadimento beta più viene emesso un elettrone quando viene emesso un muone semplifico un po' viene emesso un neutrino muonico lo stesso cosa vale per il tau che è il terzo tipo in cui assieme a quest'altra particella che si chiama tau viene emesso un neutrino tauonico allora questi neutrini a lungo si è discusso se sono diversi o no però si è visto che per esempio nel decadimento beta meno non viene prodotto il neutrino muonico e non viene prodotto il neutrino tauonico quindi si introduce un numero quantico un numero che caratterizza questi tre tipi diversi di neutrino il primo questo numero quantico che definisce questi neutrini si chiama sapore flavor in inglese cioè si dice che il neutrino elettronico ha sapore elettronico il neutrino muonico ha sapore muonico e il neutrino tauonico ha sapore tauonico allora si è fin pensato prima della scoperta delle oscillazioni si pensava che questo numero si conservasse cioè che il neutrino elettronico non poteva trasformarsi in neutrino tauonico che il neutrino tauonico non poteva trasformarsi in neutrino elettronico e viceversa il neutrino muonico invece questo fatto che sono state scoperte le oscillazioni si è visto che questo non è vero cioè si è visto che il neutrino tauonico pur essendo prevalentemente neutrino tauonico può trasformarsi in neutrino elettronico o neutrino elettronico e questa è la scoperta delle oscillazioni questa è l'idea di Bruno Pontecorlo che non si sarebbe conservato e che sarebbero oscillati fra di loro e questo è provato l'altra scusi mi sta sfuggendo la seconda domanda me la puoi ripetere ah la sezione d'urto la sezione d'urto si la sezione d'urto implica cioè esiste è un concetto già un po' più difficile ma prendiamo un nucleo un nucleo ha una sezione supponiamo che sia una sfera non lo è ma supponiamo che sia una sfera allora se io guardo un nucleo vedo una certa sezione quella è la sezione d'urto geometrica cioè se una particella ha un protone o un neutrone che sono particelle che interagiscono forte non sono come il neutrino il protone o il neutrone vede un nucleo e se incoccia dentro nel nucleo lo rompe quindi in quel caso la sua sezione d'urto è la sezione d'urto geometrica il neutrino interagisce molto meno quindi ha una sezione d'urto c'è una probabilità di interagire all'interno del nucleo che è molto meno per darle un'idea 10 alla 14 volte meno cioè un milione di miliardi di meno e questo spiega che il neutrino prodotto all'interno del sole pur trovandosi tantissimi nuclei attraversa moltissimi di questi nuclei solo raramente interagisce contro qualcuno mentre invece i protoni e i neutroni prodotti all'interno del sole si fermano subito si fermano in pochi centimetri perché appena vedono un nucleo si fermano questa è la sezione d'urto geometrica mi scusi non sono un fisico quindi mi scuso in anticipo per la banalità della domanda forse in parte l'ha già spiegato mi puoi richiarire meglio quando lei dice che c'è bisogno di una grande massa per vedere questo neutrino all'interno del gran sasso cosa misurate cos'è che lei dice cosa vedete voi abbiamo visto il neutrino è passato cos'è che misurate cosa succede dunque il neutrino è una particella che è vero che cerca di non farsi prendere ma qualche volta si riesce a prenderla cioè il neutrino interagisce molto poco cioè attraversa facilmente facciamo il caso del sole attraversa facilmente il sole perché come diceva prima la sua domanda precedente guardando lui vede un nucleo e li attraversa di solito però qualche volta no non è che non è che la sua sezione d'urto sia zero cioè interagisce ma interagisce poco ma interagisce cioè rompe un nucleo cosa si vede allora si vede il nucleo che si frantuma cioè il neutrino del sole colpisce rarissimamente un nucleo e o trasforma quel nucleo in un altro nucleo oppure lo rompe per esempio nell'esperimento di Davis il nucleo bersaglio era il cloro la trielina non mi ricordo se è triolina o candeggina una delle due contiene moltissimo cloro il cloro colpito da il neutrino si trasforma in un'altra sostanza in argon e quindi se vedo un atomo di argon non può essere che prodotto da quell'interazione del neutrino qual è il problema è che ne produco uno ogni due giorni quindi devo estrarlo pensate alla difficoltà di estrarlo da questa enorme quantità di liquido 200 cosa sono 200 metri cubi di liquido quindi molto difficile però si fa è il risultato degli ultimi l'esperimento di Davis il primo esperimento di Davis ha più di 30 anni e continua a andare prevalentemente in Italia prevalentemente l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quasi esclusivamente le università hanno dei piccoli fondi per la ricerca ma come lei saprà sono molto limitati quindi il personale è in buona parte personale universitario e in parte anche personale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare però gli esperimenti sono finanziati quasi totalmente questi di cui sto parlando dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in America sono finanziati da due enti di ricerca il National Science Foundation e il DOI che è il Department of Energy e nelle altre nazioni esiste per esempio in Germania il Max Planck Institute che li finanzia prevalentemente di sicuro certamente però tutti gli stati hanno finanziamenti come lei può immaginare questo ha avuto degli sviluppi politici per esempio la Cina la Cina al tempo delle guardie rosse di come si chiamavano non c'era finanziamento l'Acta Sinica che è un giornale di l'Acta Sinica che è un giornale una rivista come da noi il nuovo cimento è una rivista cinese pubblicava articoli di Mao Zedong per dare un'idea non pubblicava articoli dopo adesso è un'ottima rivista perché attualmente la Cina ha un forte finanziamento uno dei più importanti forse esperimento delle oscillazioni da reattore è l'esperimento di Dai Abei che è fatto in una baia della Cina dove c'è una gran quantità di reattori loro hanno molti reattori c'è una collaborazione internazionale in particolare ci sono gli Stati Uniti anche ma il finanziamento è dell'Accademia in Cina i soldi vengono quasi tutti dell'Accademia Sinica della CAS Chinese Academy of Science le altre nazioni hanno tutte finanziamenti mediamente alcune no per esempio non esistono finanziamenti nell'America del Sud piccoli e difatti loro collaborano però ci sono ottimi fisici collaborano con le nazioni l'Italia per quel che riguarda la fisica nucleare fondamentale è una buona situazione in altri campi della ricerca no ma nella fisica viene fene da dei finanziamenti inutile dire che noi disiamo sempre che sono troppo pochi ma non sarebbe vero dire la verità però dovrei sentire ma scusi non riesco a sentire però me lo può ripetere a voce alta perché non riesco a sentire oppure vengo lì però erano terminate le domande tutto questo ecco velocemente buonasera professore premesso che la domanda solo sulla materia oscura avrei dovuto farla io ne avevo un'altra se il neutrino poteva eventualmente contribuire a un collasso del sole beh il sole non collassa il sole ha una massa non sufficiente per collassare non può diventare una supernova la storia del sole è questa il sole inizialmente era fatto non solo da idrogeno era fatto per due terzi da idrogeno e per un terzo da elio poi è incominciato a avvenire la fusione la fissione la fusione mi scusi allora lentamente dell'idrogeno si è trasformato in elio attualmente due terzi è elio è un terzo idrogeno andrà avanti così poi a un certo momento l'elio diventerà tanto non avrà più la fusione il sole lentamente si raffredderà e diventerà quella che si chiama una nana una nana bianca poi una nana rossa cioè avrà un andamento pacifico non ha abbastanza massa per causare una supernova grazie 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 a tutti